Senti Cristian, dicevamo prima con il tuo presidente, tu sei argentino ma di Montesilvano alla fine, sei tornato a casa. Sì, 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 sono contento di tornare a casa, ma... Cominciamo, sono contento di tornare a casa, ma... Pure perché sono in famiglia con Troilo Nicola, che sempre stavo... Quando stavo lì a giocare a Montesilvano, sempre con lui, sempre con la famiglia, con la moglie, con il figlio, con tutti e due. Sì, sono contento di tornare qua, a giocare con qualsiasi squadra, ma sempre in Abruzzo. Adesso c'è questa fusione, si torna a lottare per vincerlo il campionato, no? Per vincerlo Scudetto. Sì, sì, io sempre mi punto a vincere tutto. Non mi piace perdere a niente, però vabbè, faremo quello che manca, che le manca a questa pone. E quello che è mancato a noi negli ultimi anni è di portare qualcosa a questo palazzetto. Grazie. Grazie.